Sì, la spigolo verso un'orba! Voglio vedere tutte quante le mani in alto ragazzi, tutti, 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 tutti! Tutti quelli che sono qui in questa notte, tutti quelli che sono felici questa notte! Andolo alle mani, Giannicola Baruso, Mika Pao Pao Micho Micho, Amor House di Venefollie, a chiudere la passione ufficiale nel Sudorba, Vulcano Weiss! C'è anche Antonio che fa il video, fallo qui, fallo qui! Riprendi tutti i migliori, loro fanno come ne una queste notte! La domenica di Pasqua sta bene con le mani! Grazie a tutti!